Signori buongiorno, episodio numero 118 della stagione 3 del podcast Tree & Drink ci stiamo avvicinando all'inizio della stagione ma ci stiamo avvicinando anche al 5 ottobre data in cui ci sarà il radunetto da 20-25 persone full, siamo full, abbiamo già iniziato insomma a far la conta e il menu e speriamo che possa essere il primo di una, si spera, lunga serie insomma non per mangiare gratis ma per conoscervi, per parlare di basket insomma bello, speriamo possa essere una bella esperienza speriamo anche nel clima perché non so te, dalle tue parti ma qui è inverno penso in gran parte d'Italia però qui assolutamente sì speriamo nel clima anche perché la nostra notoria fortuna non esiste anzi è notoria la nostra sfortuna e quindi è molto quotato per come la vedo io da pessimista che sia una giornata piovosa, sappiatelo, sarete rimborsati della spesa e verrà tutto rimandato a una data migliore nel caso il tempo sia brutto, poi magari una volta tanto il signore lassù ci fa una concessione di gioia e quindi è esatto, è possibile, quindi preparatevi quindi sarà la giornata tipo signori oggi è sabato 14 settembre, sono le 3.10 del pomeriggio e affronteremo la Southwest Division ce ne mancano due, tutte e due a ovest l'ultima sarà quella, insomma la Pacific magari non produrrà la vincita, la vincente NBA della prossima stagione ma è quella sicuramente più, che farà più parlare di sé come al solito, ci sono Lakers, Clippers, Warriors e quindi per il momento andiamo ad affrontare Dallas, Houston, San Antonio, Memphis e Pelicans che saranno le squadre tema di questa puntata 118 che io a questo punto mi appresterei a lanciare con la solita sigla Allora signori, siamo tornati dopo la sigla io mi scusi in anticipo ma già la tosse è arrivata e io ogni tanto tirerò un colpetto so che il Tore è raffreddato ma è tutto nella norma cioè siamo ancora a scherzare per quel che riguarda la prassi di questo meraviglioso e mirabolante podcast Tore, andiamo ad affrontare questa Southwest Division dopo aver parlato di tutto l'Est e della Northwest Division piccolo inciso è la division dei Denver Nuggets che hanno ufficialmente steso Jamal Murray non ricordo se ne abbiamo già parlato oppure no ok mi par di sì quindi non c'è null'altro da aggiungere come al solito andiamo in ordine inverso rispetto al record delle squadre nella passata stagione e partiamo con la peggior squadra che però ha tutto per poter diventarla migliore nel giro di qualche anno ovvero i San Antonio Spurs di Victor Rembaniama Greg Popovich ma anche Chris Paul Harrison Barnes se vuoi Devin Vasselka Eldon Johnson Zach Collins e via andare allora è chiaro che non sia ancora l'anno dei San Antonio Spurs però un po' di vecchiume un po' di esperienza Greg Popovich probabilmente l'ha richiesta l'ha voluta si annusavano già da diverso tempo in realtà con Chris Paul per stimare Ciproca presumo però il fatto che abbiano preso Chris Paul e al draft abbiano preso Stefan Kassel che è playmaker assolutamente del futuro per questa squadra è un segnale del fatto che Chris Paul debba fare anche un po' da svezzatore di questa squadra giovane un po' più o meno lo stesso ruolo che avrà Harrison Barnes un po' meno perché a livello di carisma passano anni luce però se sono state fatte queste scelte è perché effettivamente Victor Rembaniama già nella prima stagione ha fatto intendere che può essere e probabilmente sarà il perno di una squadra che sarà contender da un certo punto in avanti e probabilmente per un lungo periodo non è ancora la stagione ma non sai mai cosa aspettarti perché insomma Wemby ha il potenziale per poter fare sorprese abbiamo visto anche alle Olimpiadi ma sì ma poi nel pazzo West vai a sapere quello che si tira fuori diciamo che questa è una squadra che comunque ha tanti punti di interesse in più rispetto allo scorso anno Kestol è sicuramente il primo di quelli anche perché comunque da da quelli che sono le sue specifiche fisiche è sì una potenziale point guard atipica anche per il ruolo perché è abbastanza sovradimensionata siamo intorno ai due metri ma comunque te lo puoi spendere potenzialmente in altre posizioni è chiaro che probabilmente partirà dalla panchina oppure provenanno ad affiancarlo a Chris Paul chiaro che Chris Paul come hai detto te sarà la chioccia sarà colui che che avrà il compito di svezzare Kestol ma anche di insegnare a Ben Banama a giocare con una point guard con le tipicità di Paul che è una delle migliori point guard di sempre credo a prescindere da come la sua carriera finirà e se resterà a San Antonio non finirà certo con il titolo questo lo hai detto te giustamente la presa di Barca è interessante anche perché Harrison Barca è un giocatore che sa stare nel suo che è molto equilibrato che offre dei positivi sia in attacco che in difesa in buona sostanza e che può essere formativo volendo anche per Jeremy Sokan che è un altro di quei giocatori che va capito bene da svezzare dove lo posizioni però potrebbe banalmente anche giocare da 4 in questa squadra qua partendo da Ben Banama come 5 con Harrison Barca appunto da 3 insomma Popovic ha tante frecce a disposizione ha tante opportunità ci sono anche giocatori ad esempio come Sissoko che lo scorso anno non ha giocato sostanzialmente mai ma è da rivedere forse da riprovare a 20 anni c'è Malachi Branham che è anche lui a 20 anni insomma ci sono tanti giovani poi c'è Kelton Johnson che evidentemente con la presa di Barca potrebbe essere per retrocesso a sesto uomo ma che dovrebbe restare comunque un punto fisso nel futuro della squadra anche se poi se si deve pensare a trade del domani l'altro è il più sacrificabile in potenza però insomma si inizia a vedere qualcosa di interessante poi tutto sta nel capire quella che sarà la crescita di di Vittorio Ben Banama e la crescita dell'impatto di Vittorio Ben Banama perché ora è notorio che i rookies che fanno piuttosto bene al primo anno non necessariamente al secondo anno continuano a crescere ora io ho visto che tra le stime non ricordo di che sito sia di ESPN anche per loro tra i giocatori più progrediti in potenza dell'anno Ben Banama è quotato come quello che potrebbe vincere il trofeo ora mi sembra esagerato anche perché di solito è un trofeo che non si dà al secondo anno però a prescindere da quello le aspettative per un rookie che ha fatto così bene al primo anno sono talmente alte che pur producendo una gran stagione non necessariamente Ben Banama potrebbe produrre una stagione devastante o raddoppiante per così dire quello che ha fatto lo scorso anno quindi bisogna anche capire quello è chiaro che il livello del primo anno di Ben Banama per impatto attacco-difesa soprattutto in difesa ma anche in attacco è stato talmente alto che ci sono chiaramente aspettative importanti che poi tanto di quella che è la prospettiva di San Antonio passa dalla sua crescita lo sa Popovic lo sa la franchigia l'organizzazione e lo sanno i compagni credo lo sappia è un passo credo lo sappia anche il tuo gatto che a quanto pare voleva dire la sua e che finalmente si è levato dai coglioni da questa stanza fortunatamente perché si è iniziato un secondo in ritardo per capire se voleva star qui o di là sembrava volessere star qui e invece è andato di là come sempre ma questi sono i gatti lo sapete gatti e figli va bene io non ho più non ho più le mie ore di serenità un tempo erano la notte adesso purtroppo senza la NBA non avendo niente di interessante da fare mi addormento alle 9 9 e mezzo quindi il resto della mia giornata sveglio è completamente alla merced di un chiunque altro animali inclusi questa è la mia vita in questo momento per spiegarlo agli nostri amici ascoltatori che lo capiscono giusto per dare l'evidenza del fatto che noi siamo qui a registrare io non lo so io sono già stancho io andrei già a letto per dire stamattina ho disfatto la piscina in mezzo alle zanzare tra l'altro vicino a casa mia c'è stato un caso di Dengue ottimo Dengue esatto di Luol Dengue ti manca quella Luol Dengue stanno facendo disinfestazione per cui non si può neanche uscire a piedi la sera tre giorni weekend venerdì sabato e domenica fortuna che esco in macchina lockdown per disinfestazione tornando a discorsi legati all'NBA io sono un po' deluso da Keldon Johnson perché fino a qualche anno fa sembrava potesse essere un giocatore capace di avere un'evoluzione tecnica tale per cui potesse diventare un giocatore buono per squadre di buon livello in realtà già l'anno scorso è stato retrocesso se sto uomo per dalla seconda parte di stagione in poi nella realtà anche l'arrivo di Wemby probabilmente lo ha ulteriormente retrocesso che è un po' quello che è successo a Harrison Barnes dai primi anni a Golden State quando poi sono esplosi Steph Clay e Draymond Green e lui è diventato un role player è andato poi con un contratto di un certo tipo a cercare di fare un po' più del role player a Dallas a Sacramento poi non c'è mai riuscito e secondo me Keldon Johnson avrà quel tipo di parabola lì o almeno ormai a 25 anni a 21-22 sembrava potesse essere un buon giocatore un ottimo giocatore non che non lo sia ma per me è rimasto un po' sotto quelle che erano le mie aspettative dell'epoca Vassell discorso diverso l'anno scorso ha fatto un po' il playmaking un po' il playmaker insieme a 3 Jones è una shooting guard è chiaro che le idee di San Antonio c'è Kessel Vassell Wemby da 5 e poi probabilmente Sokan in qualche modo si deve innestare tra il numero 3 e il numero 4 probabilmente 4 Harrison Barnes può fare il numero 3 quest'anno nel quintetto base con Chris Paul al posto di Stefan Kessel quindi Paul Vassell Harrison Barnes Sokan e Wemby Dovrebbe essere il quintetto che non è un brutto quintetto per quel che è che sono i ruoli e quel che può venire fuori da questi 5 dopodiché è chiaro che la profondità del roster è relativa ci sono Keldon Johnson Zach Collins se vuoi Branham se vuoi 3 Jones dalla panchina Sandro c'è Sandro c'è Sandro c'è Sandro però per il resto insomma è una squadra che sicuramente migliorerà il proprio record perché già solo prendere Chris Paul gli farà migliorare il record il record l'anno scorso è stato comunque pessimo nonostante Wemby però qua bisogna avere pazienza San Antonio negli anni ha sempre dimostrato di averla è una piazza piccola iper protetta da un punto di vista mediatico quindi diciamo ulteriore anno di crescita le figure di Chris Paul e Harrison Barnes avranno un'importanza per quanto riguarda lo sviluppo di quelli che dovrebbero essere i Chris Paul e gli Harrison Barnes del futuro per San Antonio e quindi Stefan Kassel e probabilmente o Keldon Johnson o Sokan e probabilmente tra due tre anni questa squadra se sceglierà bene al draft perché hanno le loro pick ma hanno anche le pick di Atlanta può finalmente ritornare a essere una squadra non da corsa per il titolo probabilmente ma sicuramente da playoff a loro ci sperano io dico siamo all'anno 1 e l'anno 0 è stata la presa di Wemby quindi certo fuoriamente la più grande sfida che deve affrontare Popovic da un punto di vista di coaching è fare in modo che Kestel e Vassel fittino perché come dicevi giustamente te Vassel è parte del progetto a lungo termine sicuramente per specificità tecniche e fisiche tecniche rispetto a Kestel molto immaginate perché non l'abbiamo ancora visto il vero dubbio secondo me è che i due possono convivere in campo e fondersi e rendere al meglio se il coach riesce a farlo sono due ottimi da aggiungere a Ben Manama e al Jolly Sokan nella prospettiva futura come dicevi te poi però c'è tanto altro da costruire intorno magari qualcuno dei giovinastri dubbi che ci sono in panchina champagne non so se si chiama e si pronuncia ci abolliamo magari si possono anche rendere utili in prospettiva prossima quindi vai a sapere però insomma a San Antonio non verrebbe scegliere alto anche l'anno prossimo con tutte le picche che possano avere a disposizione se poi arriva Cooper Flagg diciamo la bassa voce altro che festa insomma poi le prospettive hanno meno rapida festone grande tra l'altro non vedo l'ora di vedere perché sicuramente lo proporranno il pick and roll invertito tra Paul e Wemby con Wemby che porta palla e Paul che blocca e dopo vediamo i mismatch che si creano perché mi immagino Wemby versus Stray Young mamma mia già Wemby è un mismatch avvantaggioso ambulante a prescindere figurati poi in quel testo sì pazzesco vabbè insomma sui San Antonio Spurs ovviamente ci sono c'è grande interesse non grandi aspettative e abbiamo già detto in sostanza tutto passerei alla squadra successiva per record ma secondo me non per potenza all'interno di questa division che sono i Memphis Grizzlies che l'anno scorso hanno deciso dopo una decina di partite o poco più di buttarla in vacca perché l'assenza di Giamorante il rientro di Giamorante l'infortunio di Giamorante in sostanza hanno chiuso a priori la stagione di Memphis che fin dall'inizio non ha mai voluto né rischiare i propri giocatori infatti da un certo punto in poi tutti fuori Smart Bain Morant ovviamente Kennard tutti fuori tranneggiare in Jackson Junior che ha giocato l'intera stagione ha fatto anche bene ma che continua a dire non possa giocare da numero 5 in questa NBA in generale su un parquet di basket l'abbiamo visto anche ai mondiali secondo me non può fare il 5 è un numero 4 molto fisico ottimo in difesa d'aiuto ma non è un 5 ed è il motivo per cui Memphis al draft ha preso Zach Heddy è stato scelto anche abbastanza alto per quelle che sono anche le prospettive legate a un giocatore come Zach Heddy che è canadese ha 22 anni perché era un senior e a livello di mobilità non dà l'impressione di poter essere un centro moderno come vengono ricercati ora in NBA ma in un'ottica in cui Jaren Jackson Junior non può giocare da numero 5 avevi bisogno di questo tipo di giocatore ti sei privato di Steven Adams l'anno scorso cedendolo a Houston in ambito di vari movimenti e hai puntato su Zach Heddy che secondo me partirà in quintetto il quintetto dovrebbe essere Morant Smart Bain Jaren Jackson Junior e Zach Heddy rientra Brandon Clark da non sottovalutare la sua importanza era già rientrato l'anno scorso rientrerà full time quest'anno è stato rinnovato Luke Kennard che è a tutti gli effetti uno dei migliori tiratori in NBA ci sarà spazio per Santi Aldama John Conchar Vince Williams Gigi Jackson che è infortunato ma dovrebbe rientrare insomma secondo me rientrerà prima di Porzingis per darvi un paragone Jake LaRavia che non è Jake LaFuria e poi c'è Derrick Rose che in teoria è ancora lì è ancora lì allora noi ci siamo un po' abbiamo un po' spento l'interruttore sui Memphis Grizzlies visto che da quando sono saltate fuori tutte le storie su Jamorant l'hype è un po' sceso però ora ripartono in teoria la situazione è sanata per tutti e questa prima dei guai a Jamorant era la seconda squadra a ovest era la seconda squadra a ovest se riprende da lì è sulla carta anche migliorata perché hai Marcus Smart ex difensore dell'anno piuttosto che Dylan Brooks non mi dispiace a Dylan Brooks ne parleremo ora quando parleremo dei Rockets però anche a livello di tenuta mentale per quanto Smart non sia come dire un agnellino però rispetto a Brooks ci passa quanti giorni e la notte no? non hai Adams ma hai Eddie come dicevi te è tutto da scoprire però anche se occupa la stessa posizione e anche se è di stazza e di mobilità similare a Steven Adams però Eddie offensivamente può darti dei valori superiori ad occhio da quel che si può aver intravisto nelle episodi di Summer League ha una visione di gioco sufficientemente espansa per il ruolo e per la stazza è forse un attaccante con una mano migliore più educata di Steven Adams se lo puoi coinvolgere differentemente nella metà campo offensiva è alto ti porta giù i rimbalzi può ben accompiarsi con Jaren Jackson Junior che come dicevi giustamente è dinamico e difensivamente funziona meglio da 4 in aiuto che da 5 quindi secondo me in più hai avuto modo anche nella scorsa sfortunata stagione di sviluppare tutti i giocatori di contorno che adesso sono lì potenzialmente a sgomitare per una posizione stabile in rotazione questa se Giamorente ritorna il Giamorente che era e che abbiamo visto per quelle 5-6 partite lo scorso anno quando rientrò e poi si è fatto subito male perché comunque i risultati per i Grizzlies arrivarono l'impatto l'impatto lo si vide se Giamorente è quello questa è una squadra che io non gli do un tetto limite ora non voglio dire che è una squadra a titolo però insomma ricordiamoci i Grizzlies in che tipo di ascesa erano con anche un connubio apparentemente perfetto tra il gruppo e il coach che sapeva ben gestirli no se questa squadra arrivasse avanti ai playoff arrivassero a una finale di conference io non sarei stupito così come però contemporaneamente possono esserci delle criticità che fanno in modo che questa squadra imploda completamente cioè la tenuta mentale di Giamorente che anche se in apparenza non ci dovrebbe essere niente di preoccupante sul momento però comunque questo è lontano dei campi lina di massima e oltretutto c'è la faccenda fisica è lina di massima lontano dei campi da tanto in più c'è il dubbio del terzetto da schierare contemporaneamente in campo che a livello di stazza li pone piuttosto bassi cioè Smart Bain e Morente da un certo punto di vista difensivamente lo paghi perché Bain è un sottodimensionato Smart dovrebbe funzionare da tre però poi se vai a incontrare squadre che comunque si presentano con quintetti a dimensione superiore puoi pagarla questa roba ad esempio e poi c'è la faccenda Eddie perché se poi Eddie non funziona se poi Eddie si rompe subito se poi Eddie si rivela un tronco acerbo magari che non può stare in campo e dopo sei nuovamente a dover riprovare Jaren Jackson Junior da 5 con tutti i limiti che ti porta Jaren Jackson Junior da 5 incluso il fatto che esca per sei fagli una partita sì e l'altra pure quindi c'è ci sono c'è un come dire una forbice bella ampia rispetto a quelle che possono essere le prospettive dei Grizzlies tanto che non si può fare una previsione secondo me vanno rivisti e cioè se si riparte da due anni fa benissimo ma è difficile cioè il mondo è cambiato in due anni ed è cambiata l'NBA e anche se apparentemente non sono cambiati più di tanto i Grizzlies però se sono cambiati gli altri insomma bisogna un po' vedere come pareggiare i livelli verissimo aggiungo io che non hanno realmente un cambio a Zakedi cioè i numeri 5 potrebbero essere Jaren Jackson per carità l'ha fatto ma come detto e come sosteniamo insomma non è un numero 5 lo è magari per stazza ma non non sa farlo secondo me lo stesso Brandon Clark è molto dinamico ti dà magari più versatilità sotto tanti punti di vista magari anche ti permette di cambiare anche difensivamente 1-5 Zakedi difesa in drop e stop cioè il grosso problema è che si iSmart che quindi ti garantisce una difesa perimetrale di un certo tipo Morant difesa perimetrale non è che la garantisca più di tanto e l'abbiamo visto a Milwaukee ad esempio col cambio giroli dei Damian Lillard quanto il ruolo di Brooke Lopez sia notevolmente cambiato in peggio dal first team all defensive di due anni fa con Holiday a far difesa perimetrale a il centro attaccabile dell'anno scorso quando la difesa perimetrale era totalmente assente con Lillard e Malik Weasley quindi per funzionare una squadra ha bisogno di tante componenti se tutto funziona a dovere Memphis è squadra pericolosa ma se qualcosa non funziona Memphis rischia di essere una squadra che va al play-in in questo ovest quindi come hai detto la forbice è realmente tanto ampia Zakedei è comunque un rookie quindi ragazzi deve ancora giocare una partita in NBA e hanno tanti punti interrogativi perché saranno anche stati finti infortuni ma Morant Bain Smart Clark rientrano tutti da infortuni che sulla carta sono stati seri e lunghi insomma sono tanti punti interrogativi però la sorpresa è dietro l'angolo e non vedo l'ora di vedere Morant tra l'altro in campo io non sono mai stato un grande stimatore ma è innegabile che sia stato e probabilmente sia ancora uno dei giocatori più eccitanti da un punto di vista tecnico atletico e di hype che sono in NBA in questo momento ragazzi la motivazione non gli dovrebbe mancare e lo scorso anno quelle 4, 5, 6 partite lo ha dimostrato poi bisogna vedere perché c'è sempre il dubbio della tenuta fisica e anche poi della tendenza a potersi rifare male perché poi lo abbiamo detto in mille un giocatore con quell'atletismo lì che lo ne abusa ai livelli con cui ne abusava Morant rischia di fare la fine del compagno attuale di Eric Rose quindi più stai fuori dal campo e più dopo quando rientri rischi di non poter far più quello che facevi prima anche di poco e magari farlo e andare inoltre non gli auguro certo il male anzi poi vanno capiti ad esempio al dama che giocatore è che giocatore può essere in questo roster cioè l'anno scorso era un giocatore di un certo tipo importante anche per la squadra tragicomica che erano i Grizzlies con tutti rotti e tutti fuori come lo sistemi al dama lo potresti anche utilizzare da 5 se arrivi a utilizzarci Clark però poi difensivamente è sostenibile offensivamente avrai minuti per potersi mettere in ritmo e per poter essere un giocatore importante cioè ci sono tantissime variabili però il coach è buono cioè secondo me il coach ha sensazione è in grado di poter ben provare a gestire a organizzare questo gruppo che tutto sommato per ipotesi nel suo best scenario singolo è pure profondo quindi sono curioso poi noi siamo abituati dallo scorso anno a non calcolare come dicevete in Memphis quindi anche in un ipotetico scacchiere di gerarchie è difficile che li metti è difficile questi fanno saltare un equilibrio se tutto va bene salta un equilibrio cioè quando si parlerà della ultima divisione vedremo che potenzialmente Lakers, Clippers e Warriors potrebbero non fare neanche il play-in è perché ci sono squadre come Memphis perché una squadra come Memphis che lo scorso anno non esisteva adesso ha di calcolare squadre come Memphis e squadre come Houston o Pelicans che si sono mossi e andremo a trattarle adesso parliamo degli Houston Rockets che sono la terza squadra e nessuno cita il fatto che due anni fa hanno vinto 21 partite 22 l'anno scorso 41 quindi Ime Udoca ha fatto un gran lavoro punto punto primo due anni fa erano la peggior difesa l'anno scorso sono stati una delle migliori difese punto due e non è che abbiano preso questi giocatori c'è Dylan Brooks ma non è che Dylan Brooks ti sistema una difesa l'allenatore e l'impronta difensiva di Ime Udoca che aveva la miglior difesa a Boston e adesso a Houston prendendo veramente una squadra allo sbando è riuscito a elevare il numero di vittorie praticamente di quasi 20 e a trasformarla in una delle migliori difese seppur con la presenza di gente come Jalen Green Sengun che non è esattamente un difensore e giovanissimi Jabari Smith o Van Vliet che storicamente è un buon ruba palloni ma non un grandissimo difensore insomma secondo me Ime Udoca ha fatto un lavorone l'anno scorso 41-41 il record dei Rockets sono rimasti fuori dai playoff perché ad ovest ragazzi il livello è altissimo e l'anno prossimo lo sarà ancora di più nonostante insomma i Clippers abbiano mandato Paul George a Est e ripartono in sostanza dal roster dell'anno scorso avevano dato un sacco di soldi a Fred Van Vliet che ha l'ultimo anno di contratto questo perché poi ha una team option da 44 milioni e 8 e non verrà mai esercitata da Houston con buona pace di Fred Van Vliet perché perché devono iniziare a fare i conti con le scadenze di Sengun e Jalen Green che hanno l'ultimo anno del loro contratto da rookie hanno preso però al posto di Van Vliet Reed Shepard al draft che è tra tutti secondo me il giocatore che ha fatto la migliore impressione in Summer League insieme secondo me a un altro paio di nomi che sono Kellen Ware di Miami lascio stare Pelle Larson che è idolo nostro e non si discute però insomma Reed Shepard tra tutti è stato sicuramente almeno a parere mio quello che ha dato le migliori impressioni sia per quel che può fare in campo ma anche quel che può dare da un punto di vista di leadership in campo e in una squadra come gli Houston Rockets perché di fianco a Reed Shepard ci puoi mettere Amman Thompson che è un altro che sa fare playmaking ma che è molto più atletico e difensore e meno tiratore quindi una coppia di backcourt Jalen Green è una shooting guard ha le dimensioni per fare anche l'ala piccola secondo me o comunque in un'ottica in cui c'hai Amman Thompson e Jalen Green sono intercambiabili a livello di di spazio in campo e poi hai Jabari Smith che secondo me si svilupperà sempre più come un ottimo stretch four se vuoi uno stretch five e role player in generale perché perché è esploso Sengun che per questa squadra sarà insieme probabilmente a Jalen Green ma credo molto di più Sengun il centro focale del futuro tanti punti interrogativi anche qui perché i Rockets sono esplosi l'anno scorso dopo che si è fatto soprattutto Jalen Green dopo che si è fatto male Sengun il che apre interrogativi su la convivenza tra i due tecniche in campo e scadono entrambi quest'anno ovviamente attendiamo l'evoluzione di Amman Thompson l'ulteriore crescita di Jabari Smith Tari Eason sottovalutato secondo me è un giocatore che è utilissimo Cam Whitmore che è un altro giocatore che dalla panchina è in potenza un sesto uomo del futuro secondo me come caratteristiche ci sarebbe AJ Griffin di cui ci sarebbe tantissimo da parlare probabilmente non ci sarà notizie recenti sembrerebbe che si voglia ritirare però aspettiamo ufficializzazioni per capire il perché si sono lette la famiglia Griffin la famiglia Griffin esatto un po' più verso la famiglia Adams che verso i Griffin c'è anche Steven Adams così per tornare proprio così Adams ci sarebbe anche Jeff Green così a fare a fare il veterano e Dylan Brooks che comunque è un giocatore che ci sta se vuoi impiantare un po' di garra all'interno di questo roster allora sono tantissimi intanto sono veramente tantissimi e alla fine di quest'anno devono già fare una scelta perché se stendi entrambi alle cifre che vorranno entrambi Sangun e Jalen Green rischi poi di avere una coppia di giocatori iperpagati per i prossimi 4-5 anni che magari insieme non funzionano e ti bloccano il processo di crescita poi Sangun avrà mercato sì ma penso che se Houston dovesse scegliere tra Sangun e Jalen Green in questo momento sceglierebbe il Turco è una situazione bella perché hai tanto potenziale ma complicata da gestire secondo me da qui nei prossimi anni questi non devono vincere il titolo l'anno prossimo però devono battagliare per la conferenza tra 2-3 anni per quella che è la profondità il valore la giovinezza l'atletismo e la versatilità al roster qui c'è di tutto le terze linee d'accordo che sono Jock Lone Landale Jason Tate e il fratello di Holiday se non vado errato ai Lakers stanno in rotazione intendiamoci le terze linee dei Rockets quindi ho detto Lakers ma anche Clippers in teoria anche a Boston anche a Boston posso sicurarsi però Boston non ne avrebbe neanche bisogno gli altri ne potrebbero avere quindi questo per intendersi che il materiale atletico tecnico che ha in mano Udoca è tanta roba e l'allenatore per quanto possa essere antipatico però comunque è uno che sa allenare e quello che hai detto te all'inizio di presentazione di squadra lo certifica a livello numerico quindi è indiscutibile Udoca sarà chiamato a scegliere lui se improntare il gioco attorno al turco o se improntarlo attorno a Jalen Green perché al netto delle convivenze che si poteva ipotizzare non essere proprio tecnicamente perfette lo scorso anno e l'abbiamo visto da dove si partirà a livello di fulcro di gioco capiremo chi andrà via o chi probabilmente non gli verrà proposto un contratto max al momento che scadono credo che Jalen Green sia chiaramente quello più quotato a partire perché il potenziale del turco è un potenziale importante poi comunque la storia recente dell'NBA ci ha dimostrato che degli hub offensivi in quella posizione lì con quella visione di gioco lì con quel ceiling lì sono importanti e attorno a quelli ci si può costruire non voglio dire una dinastia perché a Denver probabilmente la dinastia non c'è stata però comunque un titolo l'hanno vinto e faccio riferimento chiaramente a Jokic io che ti devo dire banalmente Shepard è considerabile è considerato da tutti uno dei favoriti al rookie dell'anno c'è talmente tanta profondità qui dentro che potrebbe non avere i minuti che gli servono però è anche un giocatore prontissimo qui si può voler sviluppare o sperare di svilupparlo come sostituto di Van Blit però è già un plug and play a livello di tiratore della Madonna perché comunque quello è un fondamentale che ha e che è solido e che in NBA se ce lo hai sei in grado di poter stare in campo e decidere le partite anche senza esperienza non lo so io non so che dirti è una squadra super interessante temo lo dico da tifoso Lakers che la troveremo anche serenamente in potenza qualificata i playoff senza passare dal play-in perché se tutto funziona ci sono interrogative ha detto bene te Amen Thompson può crescere offensivamente deve averlo fatto però comunque ha detto bene te ha visione di gioco è un atleta è un difensore della Madonna lo stesso Van Blit per quanto poi la team option non verrà rinnovata resta comunque solido resta comunque e lo scorso anno lo abbiamo visto capace anche di fittare bene con le capacità di Sengun quindi non so questa è una squadra che in potenza può essere molto molto fastidiosa poi purtroppo quando si presenta all'Ovest sono quasi tutte su questo livello quindi questa non è non è tanto distante nel suo best scenario da quello che è il best scenario dei Grizzlies secondo me per valori al roster chiudo dicendo che Jabari Smith a me piace tantissimo è che è un giocatore destinato a passare sotto traccia perché come hai detto te i suoi compiti saranno principalmente lui è destinato a fare il role player in un gruppo del genere però comunque ragazzi questa stazza ha capacità difensive non sarà esplosivo ma comunque è un buon tiratore ed è bello lungo quindi è un altro U ottimo che fanno bene a tenersi e che secondo me si tratteranno perché nelle prospettive di Houston di poter essere squadra importante del domani per me Jabari Smith sarà centralissimo vediamo vediamo che succede anche questa è una squadra che sono curioso di vedere come viene messa in campo già dalla preciso già dalla preciso sì ci tengo a precisare che ovviamente Van Vliet è in scadenza sono in scadenza anche Steven Adams Jeff Green e Jason Tate che libererebbero Jock Landale anche che è un non garantito libererebbero lo spazio salariale ovviamente per dare i contratti a Jalen Green e a e a e a e a Sangoon volendo se Houston vuole diciamo continuare o valuta la crescita tale per cui esercitare la team option di Van Vliet per averlo un altro anno all'interno di questa squadra avrebbero l'anno dopo 44 milioni e 8 liberati per poter fare ulteriori ulteriori movimenti è una squadra che ha sufficiente versatilità salariale al momento per vedere un po' come vanno le cose ed eventualmente prendere le proprie decisioni hanno anche le pic ulteriori pic per il futuro ovviamente e quindi insomma fai fatica a capire perché Jalen Green ha 22 anni Richepard 20 Jabari Smith 21 Ament Thompson 22 Sangoon 22 Tarison 23 Cam Whitmore 20 e diresti è ancora tanto giovane questa squadra però 41-41 e la presenza comunque di Brooks Van Vliet se vuoi Jeff Green l'anno scorso è bastata per trasformarli da una squadra 20 vittorie a una squadra 41 e se l'evoluzione continua secondo me i playoff possono raggiungerli passando per il playin secondo me non hanno ancora non so neanche come dirlo non hanno ancora le possibilità secondo me per arrivare tra le prime 6 a ovest ma sono borderline la domanda resta chi è Jalen Green perché l'ultimo Jalen Green della rincorsa della scorsa stagione vero era senza Sangoon quindi era al centro dell'attacco è il giocatore che se riesce a avere quell'impatto contemporaneamente in campo con Sangoon che mantiene l'impatto e aveva avuto la prima metà di stagione questa è una squadra che secondo me può vincere tanto di più anche del playin però si ritorna sul tema fit tra i due è tutto da verificare perché appunto gli indizi visti lo scorso anno ci hanno dimostrato che quando il centro dell'attacco era Sangoon funzionava di meno Jalen Green e viceversa quando il Sangoon si è fatto male detto ciò ricordiamoci delle condizioni di Houston dopo la fuga di Harden con il Poi Rosailas in panchina quanto poco tempo è passato e che prospettive ci sono qua tanto di cappello perché è stato fatto un signor lavoro e anche il famigerato contratto di Van Vliet vituperato vedi che come spiegavate prima è stato scientificamente redatto per cui Houston può fare quel cazzo che vuole se vede che il roster nel backcourt è pronto non opziona la team option l'anno prossimo se invece gli serve un anno in più si rimanda alla liberazione di 44 e passa milioni a tra due anni qual è il problema tanto non c'è una fretta immediata e quindi insomma molto bene molto bene tutto molto bene tutto molto bene e andiamo verso le squadre che invece ci provano le ultime due di questa division e penso che ci sia molto di cui parlare quindi ci dedichiamo sui 25 minuti allora i Pelicans ok allora scusa mi rido perché penso sempre a Bistecco quando il Bistecco la faccia è smagrito tra l'altro apprendo ora che il contratto del Bistecca è un non garantito di anno in anno quindi lo apprendo ora perché sto guardando per la prima volta spot track e me lo dà come garantito solamente per 18 milioni e 3 sui 36 e 7 totali il che vuol dire che annualmente a seconda di come si presenta Zion Williamson i Pelicans possono dire vabbè dai ti tengo anche quest'anno oppure no lo terranno perché dalle foto pare dimagrito ma le foto da magro di Williamson sono un po' come i tiri da tre di Ben Simmons estivi poi inizia la stagione e diventa un bidonazzo allora è stato preso di John T. Murray ok è stato preso di John T. Murray il grande punto addolente dello scorso anno è stato secondo me tanto il playmaking perché CJ McCullum faceva il playmaker di questa squadra ma non è un playmaker non l'è mai stato per quanto creation per quanto creation possa avere non è un playmaker The John T. Murray va nelle idee dei Pelicans a coprire quella posizione lì il quintetto dovrebbe essere Murray McCollum Herb Jones Ingram Zion quindi siamo finalmente a Zion Williamson da numero 5 come point center Zion cioè il suo ruolo è quello l'altra cosa che si sa dai Pelicans è che stiano provando a mettere in qualche trade Brandon Ingram che nessuno lo voglia e occhio perché è in scadenza di contratto quindi insomma potrebbero a fine anno perderlo a gratis e non sarebbe il massimo per una squadra che a quanto pare vuole provare a competere per i playoff a ovest allora Zion Ingram McCollum Murray Herb Jones Trey Murphy Alvarado il professore Daniel Tice Jao Antegrin Jordan Hawkins che l'anno scorso ha fatto benissimo al tiro era rookie e secondo me avrà minutaggio Jeremiah Robinson Earl che era agli Oklahoma City Thunder secondo me un po' in rotazione ci sta può essere questa una squadra sufficientemente competitiva per ambire i playoff direttamente a ovest no no io ti do la mia outtake e sono quello che diceva tra tre anni siamo a tre anni e Torelli dice no è stato fatto degli arrosti secondo me assoluti mi dispiace tantissimo però Robinson Earl ci sta in rotazione adesso qui lo lista power forward dai tempi di Oklahoma City lo proponevano centro qui non c'è un centro non puoi pensare di andare a vincere tante partite con Williamson a giocare da cinque senza un reale cambio di cinque vero dietro perché anche il professore Tice nelle qual mani ti devi mettere è un centro ma non è così sovradimensionato anzi diciamolo pure è un centro sottodimensionato per l'NBA io e Daniel Tice tanti minuti da cinque contro i big men veri non ce lo vedo a farli e chi schieri vuoi schierare Ingram da centro vola con un soffio d'accordo ha messo che gli tocchi trattenerlo perché gli toccherà probabilmente trattenerlo e allora secondo me i Pelicans tempo dieci partite e malediranno se stessi di aver mandato via Valanciunas che sembrava fosse il primo da liberarsi dai coglioni al momento che scadeva perché chiaramente rompeva le balle da un punto di vista di intasamento d'aria a Zion Williamson ma Zion Williamson negli ultimi anni anche nella scorsa stagione ha dimostrato che funziona molto meglio palla in mano prendendo velocità con quella stazza bulldozer che è Dio Mono a battere il canestro piuttosto che dover stare in una posizione di 5 canonico dove se dovesse essere impiegato da 5 De Dupo non possa stare probabilmente non ci starà non lo vedo Zion Williamson a giocare in post contro Embiid o a ricevere in post contro Embiid ammesso nella NBA moderna si riceveva ancora in post ma Embiid lo fa però deve difendere dall'altra parte ed è vero che c'è dei difensori versatili qui che c'è la coppia Murphy e Jones che viene utilizzata come dei jolly oramai tanto c'ho loro sono versatili sono difensori li metto su tutti quelli vanno su tutti però Dio Bono devi pensare se vuoi vincere le partite dover affrontare Ivan Bagnama gli Embiid gli Jokic come fanno gli Anthony Davis come fanno questi qua inoltre bene De Gente Murray io l'avrei voluto anche ai Lakers a me De Gente Murray piace era un grande difensore un buon difensore a San Antonio è stato di meno all'Atlanta ritornerà volendo ad esserlo offensivamente è clutch ha soluzioni realizzative però McCallum a cosa mi serve a me perché ora vuoi far fare la point guard a De Gente Murray proviamo a fargli fare la point guard e la può anche fare no ma CJ McCallum accanto secondo me è un fit pessimo con De Gente Murray o uno o l'altro è chiaro che se avessero potuto scegliere probabilmente avrebbero dato via McCallum e portato dentro De Gente Murray però metterli insieme e farli partire insieme a me non mi appare una soluzione che equilibra un attacco che è già disequilibrato di per sé perché manca di stazza canonica sotto soprattutto se devi far giocare Zion da 5 ed è una cosa obbligata perché anche se loro dovessero provare in questo momento e trovare da tradare Ingram mi spieghi per chi vai a tradarlo visto che necessariamente ti serve un 5 in questa squadra chi c'è di 5 disponibili Capelà e allora potevi farlo prima quando hai fatto la trade con Atlanta per De Gente Murray buttaci dentro Capelà in qualche modo dagli un qualcun altro chiaramente la dico così per scherzo perché poi probabilmente Atlanta gli avrà detto sto facendo il gesto dell'ombrello non te lo do perché mi dai poco in più non lo so però il punto è che qui ti serve un centro con delle peculiarità che potrebbe avere Steven Adams che potrebbe avere Time Lord io proverei Time Lord però poi si ritorna lì la tenuta di Time Lord boh perché anche la tenuta di Williamson è un grosso boh cioè Eton ragazzi Williamson poi telegiocano a 70 partite speriamo di sì auguriamoci di sì ma se si rompe e zaino il tuo 5 titolare questa squadra che cazzo fa secondo me al netto della gran mossa che è stata di gente rileggendo il roster a ora e guardando le non mosse fatte a seguire con il plus che poi in realtà per loro è un minus dell'ingram tra i coglioni che non sai a chi dare che probabilmente ti va in scadenza e che perderai a zero perché col cazzo lo rinnovi e questa è una squadra che si è messa in una bella situazione del cazzo io ti do io ti do il nome a sorpresa Nicola Vucevic siamo Nicola Melli Nicolò Nicolò tra l'altro allora Nicola Vucevic io sono anni che vado dicendo che sarebbe un fit offensivo perfetto per Zion Williams è quello oppure Miles Turner il solito Miles Turner Miles Turner ma Miles Turner col cavolo sarà free agent credo alla fine della stagione in estate però non vedo ragioni per cui preferiscono andare lì per restare dove gli proporranno un rinnovo viste le prospettive di Indiana e Vucevic potrebbe anche essere un'ipotesi non so salarialmente come la fai o come non la fai 20 milioni viene Vucevic ti danno Vucevic il ritorno di Lonzo per Ingram ma guarda guarda sarebbe una roba perfetta perché comunque Lonzo se sta in piedi almeno una point guard vera e allora sì che preferirei avere in potenza un fit tra Lonzo Ball e Dejounte Murray piuttosto che con McCallum McCallum lo darei via subito McCallum ha fatto il suo tempo oramai l'anno in cui fu MJ McCallum ai playoff poi secondo me è un sindacalista rompicoglioni alla fine è una squadra che secondo me sarà tra le peggiori in assoluto a rimbalzo e dove veramente avrà anche tanti con le braccia lunghissime ma nessuno di questi è rimbalzista e tra Ingram Herb Jones e Trey Murphy voglio vederli contro le squadre realmente fisiche non lo so io non lo so se Zion sta bene potrebbe anche sorprendere questa squadra ma il problema è che se Zion deve fare il 5 e come pare ha pure perso peso poi me la vediamo è l'unico anno che serviva lo Zion ciccione si presenta tipo magro ma come? non sarà magro non vi preoccupate ma ti volevamo grasso Zion no però sono abbastanza certo che vogliano che stiano cercando di mettere sul piatto Brandon Ingram per arrivare a un lungo che potenzialmente possa anche allargare un po' l'area perché ovviamente Valanciunas avrebbe fatto comodo sì però non è che sia un lungo che t'allarga l'area io lo dicevo paradossalmente rimpiango Valanciunas perché non ho più lungo al roster ma è chiaro che Valanciunas fosse un problema per William certo Vucevic certo forse anche Dominaton Dominaton è un contratto importante è anche un grosso pericolo nel senso ti togli ipoteticamente tra un anno Ingram che è una bella zavorra e ti porti dentro Dominaton che tutto sommato anche a livello di produzione non è che sia anzi sicuramente è peggio però voglio dire il profilo per offensivamente dare una mano è Vucevic che tra l'altro è un ottimo rimbalzista almeno difensivo ti allarga il campo offensivamente se hai bisogno dell'area sgombra viene la metà di Ingram a quel punto non è che ci sia tanto altro penso abbiamo detto tutto siamo stati piuttosto cattivi sui peli la squadra con cui siamo stati più cattivi sono delle merbe no vabbè ma funzioneranno dopo parleremo l'ultima puntata dei Clippers dei Lakers dei Warriors che alla fine sono tre squadre che hanno fatto il loro tempo e che probabilmente a livello di profondità anche di caratteristiche possono anche essere sotto a questi qua per quello dico che se tutto va come deve andare però non è mai andato finora come deve andare guarda io credo di poter essere cattivo pari non solo con i Clippers ma lo spiegherò alla prossima puntata perché mi ha fatto delle cose completamente illogiche con Paul George proprio una cosa incredibile però vabbè comunque ne parleremo ma neanche i Lakers si mantengono comunque gli stessi lo scorso anno e di Riffo o di Raffa si sono dimostrati più equilibrati di questi Pelicans perché li hanno battuti in semifinale di un season tournament e li hanno battuti però al play-in e al play-in non c'era Dejonte c'era un super Zion che poi si fece male però appunto la domanda è proprio quella giungo Dejonte e però sposto Zion da 5 con quei Lakers la riperdo secondo me sì perché non avevi risposta l'anno scorso Anthony Davis l'hai quest'anno e allora mi domando dov'è il miglioramento nell'aver preso Dejonte da nessuna parte anzi c'è un peggioramento perché sono costretto a utilizzare Williamson da 5 banalmente perché non ho nessun altro quando si era tutte incensare point Zion e allora siamo andati in direzione opposta rispetto a quella che era la tendenza migliore vista lo scorso anno io non capisco le scelte di questa squadra poi va da sé che probabilmente le scelte sono state ho la possibilità di prendermi Giustamente me lo prendo non ho avuto modo di muovermi in differenti altre maniere resto senza centri e questo ora te lo trovi come dire in saccoccia e magari si provano a muovere in queste ore vai a sapere per quello che possono fare se andesse in porto ammesso che ci sia una discussione da fare Vucevic sarebbe chiaramente un cambio di prospettiva rispetto a quello che ho detto e che abbiamo detto fino ad ora ci mancherebbe altro si equilibrerebbe di più tutta la faccenda e arriviamo all'ultima squadra finalista NBA dell'ultima stagione ha preso Klay Thompson e qua secondo me si propone lo stesso problema di Memphis cioè se noi diciamo già Morant Smart e Bain in son bassi Luca sarà anche alto Luca ma non difende Luca Kyrie Klay è un qualcosa di simile però è anche vero che Luca se da un lato è il playmaker difensivamente può marcare i numeri 3 per stazza quindi potrebbero difensivamente mandare Kyrie sul play avversario Klay da shooting guard Idoncic potrebbe difensivamente marcare i numeri 3 avversari chi lo sa se trovi una squadra con un 3 buono ti fa 65 punti marcato da Luca è vero che magari un po' di load offensivo anche se poi neanche più di tanto la presa di Klay forse gliela toglie ma neanche più di tanto perché Klay è qui per fare giustamente il catch and shooter e lo sa fare perfettamente e avrà gli spazi con Irving e Luca per sfruttare queste sue capacità quindi aspettiamoci un Thompson che tiri di più e meglio secondo me rispetto alla scorsa stagione però Donchic comunque avrà comunque il load offensivo elevatissimo quindi poi dall'altra parte notoriamente si riposa quindi dipende da che tipo di squadra incontri a chi gli vai a destinare cioè per me resta il tema che Donchic lo devi nascondere difensivamente e lo scorso e lo scorso anno è riuscito a nasconderlo bene soprattutto il run playoff perché Derrick Jones Junior e il PJ Washington con la versatilità che ti offriva anzi la dinamicità che ti offriva Lively o l'atletismo di Gafford ti presentavano una protezione a livello di frontcourt difensivo che era favorevole rispetto anche ai buchi che ti poteva lasciare Luca o Kyrie che magari non è neanche proprio un difensore cancerogeno anche se non brilla però è sempre sottodimensionato spesso nel mismatch e quindi rischi di pagarlo adesso schierare un quintetto con quei tre cioè aggiungere Klay Thompson o hai il Klay Thompson difensore pre-infortunio a Golden State e sappiamo che non lo è più oppure questo rischia di essere un problemino hanno preso Najee Marshall sostanzialmente a sostituire Derrick Jones Junior Derrick Jones Junior era una scommessa lo scorso anno vinta Najee Marshall è parimenti una scommessa vediamo se l'hanno azzeccata o meno a me non è mai dispiaciuto per il poco visto a New Orleans Najee Marshall così come non dispiaceva Derrick Jones Junior per il poco che si era visto prima dello scorso stagione però tanto dipenderà anche da da Lively perché lo stesso discorso che ho fatto prima su su Mbanyama vale anche per Lively anzi vale di più Lively ha un secondo anno lo scorso anno ha fatto una prima stagione abbastanza sorprendente anche per maturità attendiamolo perché non è necessariamente detto che cresca potrebbe esserci famicinato rookie wall e allora se le sue prestazioni regrediscono è vero che hai Gafford dietro a fargli da sostituto o davanti dipende da quelle che saranno quelle gerarchie mutabili però insomma magari potrebbe crearti un qualche problemino dovesse scontrarsi su rookie wall ma magari non succede perché si conferma maturo come lo è stato lo scorso anno e perfetto come lo è evidentemente per fittare con le caratteristiche di Donchic e volendo di di Kyrie offensivamente la squadra guadagna a prendere Clay però come assetto in chiusura delle partite diventa più bucabile perché Thompson Green eh sì addio Thompson Irving e Donchic difensivamente li paghi più di quanto non pagavi lo scorso anno l'assetto che avevi in frontcourt con Derrick Jones Jr secondo me sì facciamo una panoramica che non abbiamo fatto nuovi arrivi Naci Marshall hai già detto tu Quentin Grimes che è un po' caduto in disgrazia ma che ai tempi dei Knicks aveva un ruolo importante aveva un ruolo buono è tornato Spencer Dean Witty a fare il playmaker dalla panchina per cui diciamo che vabbè però insomma con Dallas aver già raggiunto le finali di Conference qualche anno fa torna e torna al minimo alla fine in una squadra in cui ci sono lui e Dante Exum a poter fare i playmaker diciamo della second unit o i playmaker diciamo dalla panchina in un'ottica in cui hai Quentin Grimes che ti fa il vice Kyrie come diciamo shooting guard molto più tiratore va a sostituirti di fatto Josh Green che è andato a Charlotte Derek Lively ne hai già parlato Maxi Kleber che abbiamo detto più volte l'anno scorso di quanto sia stato importante il suo infortunio in termini di mancanza di alternative da numeri 5 a un certo punto soprattutto nelle finali NBA e ovviamente Daniel Gafford e PJ Washington che sono arrivati l'anno scorso in deadline e hanno fatto comunque la differenza io continuo ad essere convinto che Clay Thompson a 15 milioni a stagione è un giocatore stra sarà un giocatore stra importante cioè il rapporto tra quello che ti può dare e il prezzo che ha nonostante abbia 34 anni nonostante l'immagine che abbiamo di Clay dell'ultimo Clay secondo me a 15 milioni è un'ottima presa per 3 anni non deve fare nient'altro che farsi trovare pronto in una squadra che ha Doncic e Kyrie Irving sarà una squadra improntata sul pick and roll inevitabile inevitabile sarà più o meno la stessa squadra dell'anno scorso l'anno scorso non so quanto ciao Enrico non so quanto quanto diciamo fattore C fattore culo nei playoff ci sia stato perché l'ovest si gioca sugli accoppiamenti sui matchup e comunque l'anno scorso i Dallas Mavs sono arrivati fino alla fine anche perché hanno trovato Minnesota magari e non Denver in finale di conference e quindi gli è andato tutto un po' per il verso giusto è una squadra che secondo te può ripetersi io la vedo durissima anche perché le immagini estive di Luca Doncic narrano per l'ennesima volta di un giocatore sovrappeso altro che bisteccone esatto no io temo che lo scorso anno effettivamente per voi per gli incroci voi per altri favori che sono capitati che la squadra abbia overperformato rispetto al rendimento possibile o previsto è vera una cosa però per quelle che erano le caratteristiche offensive di questo gruppo che puntava tanto sulle tripe dall'angolo come dicevi giustamente te la pressa di Clay Thompson è qualità prezzo perfetta perché Clay Thompson già di per sé un gran tiratore già di per sé un gran catch and shooter se lo liberi nell'angolo quanto era libero Derrick Jones Jr che fino alle finale di conference ha tirato benissimo ai playoff auguri per le difese che dovranno affrontare i Mavs perché diventa un attacco super chirurgico ti ripeto io ho dei seri dubbi sulla tenuta difensiva del terzetto in contemporanea però quando hai Donchich Irving si diceva lo scorso anno never say never e infatti in un modo o nell'altro pur con un Donchich Donchich soppicante e stanco a livello di di posti non sono arrivati in fondo per me non si ripetono però si ripetessero non sarei stupito perché c'è Donchich e Irving dei quali bisogna anche calcolare la tenuta questo è un altro discorso che riguarda principalmente Kyrie ma anche Luca per la faccenda punto atletica scricchiolante che dicevi te prima quindi per me non sono una tra le cioè sono contender naturale perché sono i vice campioni NBA però a Ovest vedo altre squadre avanti abbiamo parlato dei Thunder abbiamo parleremo dei Phoenix Suns che per me sono superiori però poi come terza forza secondo me ci possono anche stare con il talento vanno visti vanno visti ma non subito cioè secondo me non vanno visti in avvio di regular season vanno visti nel medio lungo cioè questa è una squadra che rischia di pagare banalmente più e playoff che in regular season la presa di Clay Thompson o comunque l'usura di quei tre che fisicamente sono inclini agli infortuni quindi sono più da vedere alla distanza ecco sì e poi c'è c'è bisogno che si confermi Derek Lively e che confermi di poter essere come dire affidabile sui due lati del campo PJ Washington che a Charlotte metteva ottime prestazioni offensive a Dallas a Dallas ha fatto vedere che può essere anche un buon difensore però poi tutto passa per i role players per la maggior parte delle fortune presenti e future di Dallas in ottica titolo ovviamente poi non dimentichiamoci che PJ Washington a un certo punto ha trovato una superquadra con l'avvio della postseason ma all'inizio quando era arrivata la stagione a Dallas non ne metteva una nemmeno per sbaglio e come dire il bene per Dallas è arrivato da lì quando è diventato un tiratore affidabile e le cose sono un attimo cambiate quindi che PJ Washington avremo va visto perché se dobbiamo calcolare la stagione dello scorso anno è finita bene però è stata abbastanza discontinua quindi è da valutare ed è stato centrale quindi lo sarà anche eventualmente in questa stagione fermo restando che la certezza insomma è che Don Ciccai è probabilmente il backcourt migliore della NBA per la qualità offensiva per la qualità in creation per il numero di soluzioni che possono avere anche sfruttando i compagni di squadra e che ovviamente se a fianco a questi due ci metti uno dei migliori tiratori di sempre perché Clay Thompson quello è indipendentemente ripeto da quelle che sono state le percentuali degli ultimi anni le prestazioni degli ultimi anni una squadra qualsiasi squadra difensivamente non può permettersi di battezzare Clay Thompson come poteva permettersi di battezzare Derrick Jones Jr o eventualmente PJ Washington indipendentemente da tutto non lo puoi fare e nessuno lo farà mai a meno che non sia pazzo oppure veramente scommetta che Clay Thompson è ormai questa merda sì ma rischi rischi di farlo in una partita e dopo un quarto cambi piano perché magari la volta 6 su 7 esatto quindi non conviene non conviene scommettere nemmeno per mettergli pressione eventualmente non conviene e quindi insomma chiudiamo questa division con i Dallas Mavs le aspettative per me sono chiaramente di top 4 a Ovest ma a livello di diciamo potenza forza generale secondo me sono sotto a Oklahoma City che pur hanno battuto alla fine nei playoff scorsi sono se la giocano secondo me con Denver Minnesota per quelle che sono le caratteristiche e vediamo poi la Pacific Division perché c'è tanta esperienza tanta qualità e forse insomma i Phoenix Suns vediamoli gli stessi Lakers gli stessi Warriors gli stessi Kings che sono l'altra squadra di cui non si parla mai ma che in potenza possono far la sorpresa e ne discuteremo nella prossima puntata io chiuderei qua anche perché è arrivato Enrico il Torre non può più parlare quindi non può io dico solamente una cosa voi dovete selezionate scusate amici del podcast è puntata qui tra i gatti lui la mia moglie come fai anche a fare un ragionamento io non so cosa ho detto ecco è bello del nostro podcast però è veramente una roba incredibile proprio sembra tutto fatto apposta quindi amici buon lunedì DM che non si può dire bisogna che stacchi perché questo mi sta smontando tutto bene allora auguro io un felice lunedì di merda oggi è sabato quindi per chi ha la sub su youtube da scienziato del gioco in su ascolterà e vedrà questa puntata in anteprima con la comparison l'apparizione di Enrico salutiamo a mano ciao Enrico ciao Tore grazie mille per esserci stati in questo sabato pomeriggio e ragazzi buona settimana la settimana prossima arriverà l'ultima puntata sulle division e poi pian pianino sarà ottobre e iniziano i training camp signori grazie mille per averci sopportato anche in questa puntata numero 118 siamo tornati ampiamente in top 200 su spotify e per questo vi ringraziamo tanto un'ulteriore spinta verso la top 100 sarebbe il top per l'appunto per noi gazzoli sei a un tiro di schioppo ricordatelo no no vero ok allora signori il tore non può parlare io vi saluto vi ringrazio buon lunedì di merda buona settimana di merda a tutti e tore ciao a tutti amici qui stavo per cadere tutto io qui stavo per far cadere tutto ale raga ale raga tore in bocca al lungo ciao a tutti ciao amici